Siamo qua con Davide Furiosi, l'allenatore del Colbe Esagono, avete vinto 3-0, la prima vittoria in questo campionato, il pubblico degli avversari era fenomenale, voi siete riusciti a rimanere lucidi per tutti i 3 set. Quanto è fondamentale la lucidità in campo? Direi al massimo dell'importanza, soprattutto a questi livelli la testa conta per l'80% delle qualità, più della potenza, della velocità e delle capacità individuali. Grande fase difensiva, fase offensiva, no, grande fase difensiva, fase offensiva impeccabile, quanto avete lavorato per ottenere questi risultati? Beh, noi lavoriamo insieme da tanti anni, non per niente siamo i nonni dell'eccellenza, ormai siamo l'eccellenza del 99, per cui siamo un gruppo unito che lavora insieme da tanti anni, soprattutto per divertirsi, però anche per lavorare e quando portiamo a casa i frutti del nostro lavoro si vedono come stessiamo. Ok, grazie. A te. Grazie. 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 Grazie.